Il diavolo è l'envidioso e non tolera che una terra sia così feconda in missionari. La preghiera al Signore perché il Quebec torni su questa strada della fecondità di dare al mondo tanti missionari. E questi due che hanno, per così dire, fondato la Chiesa del Quebec, ci aiutino come intercessori. Che il seme che loro hanno seminato cresca e dia frutto di nuovi uomini e donne, coraggiosi, di lunghi miranza, col cuore aperto alla chiamata del Signore. Così Papa Francesco, nell'Omelia della Messa di Ringraziamento per la canonizzazione equipollente, cioè decretata dal Papa, anche in assenza di un miracolo, dei Santi Canadesi Francesco de Laval e Maria dell'Incarnazione, celebrata nella Basilica di San Pietro. Presenti migliaia di fedeli canadesi guidati dall'Arcivescovo di Quebec, primate del Canada, Cardinal Lacroix, molti dei quali hanno compiuto un pellegrinaggio attraverso la Francia, da Montigny, luogo di nascita di San Francesco de Laval, missionario che nel 1658 fu nominato primo vescovo di Quebec, fino a Tour, dove nacque Maria Guillard, che col nome di Maria dell'Incarnazione, negli stessi anni fondò la Congregazione delle Orsoline canadesi, la prima comunità di religiose del Nuovo Mondo. Papa Francesco ha portato i due missionari, canonizzati il 3 aprile, ad esempio per i fedeli. La loro memoria, ha detto, ci sostiene nel momento in cui sperimentiamo la scarsità degli operai del Vangelo. I missionari sono usciti a chiamare tutti agli incroci del mondo, e così hanno fatto tanto bene alla Chiesa, perché se la Chiesa si ferma e si chiude, si ammala, si può corrompere, sia con i peccati, sia con la falsa scienza separata da Dio, che è il secolarismo mondano. Grazie. 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 Grazie.